Dishonored ha riscosso un così buon successo di critica e pubblico che è arrivato il momento di uno spin off. Arkane Studios ci mette dunque dalla parte dei cattivi in una missione in cui dovremo eliminare addirittura la misteriosa entità chiamata all'esterno. Il vostro compito sarà più breve del solito e i vostri poteri saranno limitati a tre comunque originali abilità, eppure complice anche il prezzo di vendita che si aggira intorno ai 30 euro, l'esperienza si rivela appagante e anche un po' più leggera del solito e da una parte lo facilitano come il mana che si rigenera e dall'altra lo ampliano con i contratti che ci spingano ad esplorare e ad assaporare ogni livello con calma. Se queste sono le prove generali per il terzo episodio, l'erede spirituale di Tiff è in buone mani.